Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Elo di Patrizia è stata immortalata mentre si divertiva con un volto noto della TV e del mondo dello spettacolo, e dello sport italiano Dalle immagini è sembrata palese a tutti una certa sintonia Scopriamo con chi è stata beccata al party esclusivo l'amata cantante, interprete della i-tribale Ecco con chi si stava divertendo e sfrenando l'amatissima cantante Elo di Patrizia, ex partner del premiato rap per Marrakech Elo di Patrizia, beccata insieme al famoso volto dello sport Elo di Patrizia è diventata un volto noto del mondo dello spettacolo e della canzone italiana da quando ha partecipato al talent show Amici, tanti anni fa All'epoca era solo una ragazza nata e cresciuta tra mille difficoltà nella periferia romana e con un dono enorme, del quale era quasi inconsapevole Stiamo chiaramente parlando della sua splendida voce.Elodie allora era infatti una cantante esordiente che cercava notorietà e ha trovato visibilità, e con il tempo e tanto impegno, anche il successo Senza dubbio la scuola più famosa d'Italia le ha consentito di farsi apprezzare e far conoscere a tanti il suo talento Oggi ha quasi 3000 fedeli followers, che seguono il suo canale ufficial di Instagram Proprio i fan della cantante nelle scorse ore hanno visto sui social network delle immagini inaspettate in cui Elo di fa festa assieme a un noto e amatissimo volto della televisione e dello sport italiano Scopriamo di chi si tratta.La cantante paparazzata durante la festa Elo di Patrizia ha partecipato a un evento esclusivo, ed è proprio durante la serata speciale che è stata immortalata mentre si divertiva assieme ad una persona famosa La persona che era assieme a lei al party e la festeggiata stessa, protagonista della festa Si tratta della cronista sportiva di Dazon che ha appena compiuto 31 anni Stiamo parlando di Diletta Leotta. Il compleanno della bellissima conduttrice di calcio si è svolto in Sardegna È stato un party a bordo piscina a base di musica risate e amici celebri e volti meno noti Senza dubbio è stata un'occasione per le due famosissime donne dello showbiz per ballare e ritrovarsi in un momento allegro e spensierato Le immagini, in cui si vede Diletta sorridere con in braccio un'inedita Elodie, super sensuale, che si stringe alla cara amica, hanno fatto in poco tempo il giro del web e hanno ricevuto piogge di likes da parte dei fan, soprattutto da quelli iscritti a Instagram che seguono le vicende della Leotta Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video